Siamo all'ospedale di Al Sheffa e parliamo delle armi che gli israeliani stanno utilizzando in questo momento nelle ultime incursioni e negli attacchi contro gli abitanti dei territori palestinesi. Strani fenomeni sono stati notati dai dottori e dai chirurghi all'ospedale di Al Sheffa, l'ospedale principale di Gaza che appartiene al Ministero della Salute. Molti combattenti sono stati gravemente feriti e hanno riportato profonde ustioni. Le ustioni arrivano fino alle ossa e si tratta di ustioni di quarto grado. Parliamo ora delle ferite. Le ferite sono di tipo diverso. Alcuni pazienti sono rimasti feriti dopo essere stati presi di mira direttamente dai razzi o dai carri armati. La cosa strana che abbiamo notato è che il corpo era completamente ustionato, a volte fino alle ossa. Si trattava di lacerazioni gravi dei tessuti e i tratti facciali erano completamente distrutti. Tanto che nessuno riusciva a riconoscere la vittima, nemmeno le persone più vicine e gli amici più stretti. dopo le operazioni chirurgiche, a volte abbiamo notato che esternamente non si trovavano i frammenti dei proiettili, ma solo dei segni. Quindi abbiamo eseguito una radiografia, ma non siamo riusciti a trovare questi frammenti dei proiettili, nemmeno con la radiografia. Questo è strano per noi. I segni dei frammenti dei proiettili sono chiari esternamente, ma internamente non ci sono questi segni, questi frammenti dei proiettili, anche se i segni variano. Inoltre abbiamo riscontrato che il fegato è completamente distrutto e l'intestino è totalmente lacerato e ustionato, i polmoni sono ustionati e così via. Non ci sono frammenti dei proiettili. Abbiamo trovato anche che il fegato è ridotto a pezzi e il pezzo più grande è di circa 2 o 3 mm. Inoltre l'intestino è completamente distrutto e i polmoni sono distrutti e così via. A questo possiamo aggiungere che le ossa stesse erano completamente ustionate e non c'era alcuna possibilità di ritrovare i tessuti e ricostruire questi arti. Finora abbiamo avuto circa 40 pazienti feriti che hanno subito delle amputazioni di uno o più arti. Per noi è strano che queste armi causino ustioni gravi e danni gravi agli organi interni e ustioni gravi alla faccia e all'aspetto generale del paziente, tanto che nessuno riesce a riconoscerli. credo che siano state usate delle sostanze come il fosforo o armi, come quelle ad energia o al laser o simili. Occorre una commissione internazionale, al di sopra delle parti, che studi questo fenomeno per arrivare a una relazione conclusiva. Sono sicuro che queste armi siano proibite a livello internazionale, ma si continua a usarle e si compiono ancora esperimenti sul popolo palestinese e questo è proibito a livello internazionale. Questa è la nostra situazione.